22.06 eccoci qua con Ettore e Maria Luna che imperversano per lo studio e vi abbiamo già raccontato tante storie ma ne sentirete delle altre per esempio questa c'è un'azienda importante del Veneto che rischia di chiudere quindi tanti posti di lavoro che se ne vanno e cosa fa il sindaco di Piombino ottese scrive al presidente americano Donald Trump chiedendo di intervenire per evitare che questa multinazionale americana che ha in mano attualmente l'Ariello possa decidere di smantellarla vediamo questi servizi In corteo lungo le vie di Piombino d'Ese dallo stabilimento al municipio una cinquantina i lavoratori dell'Ariello scesi in strada per protestare contro la chiusura dello stabilimento annunciata dalla multinazionale americana UTC proprietaria del marchio dallo scorso giugno 72 lavoratori 48 saranno licenziati 20 anni di lavoro per molti qualcuno di più una vita in fumo Avrebbe mai pensato di arrivare a questo punto? No, no, proprio no Spera che la situazione possa risolversi? Ma un piccola speranza c'è, ma piccola Purtroppo è andata così Lei ha qualche speranza? Di cosa? Che si possa risolvere qualcosa? No, no, perché hanno già deciso A loro fianco i sindacati nessun piano industriale spiegano nonostante le richieste sale la preoccupazione per il futuro di tutto il gruppo Non abbiamo la possibilità di capire UTC cosa realmente vuole fare per tutti i lavoratori dell'Ariello Sono lavoratori che hanno fatto questi marchi, sono lavoratori che se perdono il posto di lavoro poi hanno anche un'età abbastanza avanzata Un paese incredulo Piombino Mai pensato, perché non l'ho mai visto, ecco Sono qua apposta perché è buon cammino Fioia Gli ha fatto i soldi con l'agente del Piombino d'Ese Su Fioia se è meno ora A me mi piace il cuore E me la la bussi Facciamoci sentire A fianco dei lavoratori si stanno mobilitando le istituzioni dalla regione al comune dove il corteo è arrivato a mezzogiorno Ad accoglierli c'era il sindaco che in queste ore ha scritto il presidente americano Donald Trump Lui ha vinto la campagna elettorale su questo tema, dicendo alle aziende americane che andavano a produrre fuori Facendo lavorare non gli americani ma altre persone, altri cittadini che dovevano rientrare Perché la cosa principale è il lavoro, mantenere il lavoro in casa, far lavorare i propri cittadini Servizio di Chiara Gaiani, vedremo se Trump o chi per lui risponderà dalla Casa Bianca Maurizio Di Sarò del Comitato Equità Fiscale, imprenditore Buonasera Di Sarò, bentornato Che succede sull'equità fiscale? L'equità fiscale è un sindaco, un sindaco vede l'ago Scusi, la devo interrompere perché c'è un problema col microfono, abbia pazienza Succede spesso No, no, è proprio un problema con, credo, con le batterie Un attimo soltanto Allora, Roberto Xausa, Rotary Buonasera Xausa Buonasera Allora, certamente, guardi, lei mi dà l'occasione per dire che il Rotary in questi frangenti Con questi temi si sente assolutamente a suo agio Il sistema Rotary nel nord-est Italia si è suddiviso, si occupa attraverso 87 club 4.500 soci delle attività a sostegno, a sostegno proprio di questo tipo di iniziative Devo dirle che non è molto, molto noto quello che fa il Rotary Anzi, forse delle volte è anche miss, sconosciuto E si interpreta male anche quello che fa perché non è noto Direi che il nostro core business, la nostra attività principale È rivolta soprattutto ai giovani, è rivolta soprattutto alla ricerca del lavoro È rivolta alla disabilità Il sistema Rotary del nord-est Italia organizza quattro Andy Camp Che negli ultimi anni hanno avuto oltre 2000 ospiti Ad Albarella, al Lago di Garda, a Ancarano E anche uno in montagna, nel Bellunese Ecco, vede, tutto questo vuol dire proprio essere vicini E cercare di essere di aiuto a chi ne ha veramente la necessità Io ho notato anche che molto spesso c'è una certa riservatezza Cioè Rotary non tende a, come dire, a mettersi mostra o a illustrare Sì, è vero questo Ma è un po' è uno stile anche questo Però guardi, io le devo dire che purtroppo non è noto E vorrei proprio esprimere in questa sede anche questa apertura Questa possibilità di utilizzare il canale Rotary Per appoggiarsi ad un'iniziativa, ad una strada da fare assieme Non le sto qua a dire quante iniziative Lei pensi solo che il Rotary è noto nel mondo per la campagna mondiale antipolio 2 miliardi e 500 milioni di bambini vaccinati attraverso il sistema Rotary Cioè parliamo di grandissimi numeri Ma dai grandi numeri del mondo parliamo anche dei piccoli numeri del Veneto e delle nostre realtà E su queste realtà devo dire che tanti club si occupano proprio di questo tipo di aiuto Perché i politici non fanno leggi più severe contro la criminalità Allora torniamo da Di Sarò che avevamo avuto un problema col microfono Dicevamo di Sarò l'equità fiscale L'equità fiscale Infatti prendo spunto un attimo così Visto che abbiamo due amministratori qua, due sindaci e un consigliere Io so benissimo che loro avranno affrontato sicuramente molti problemi Tra i quali sentirsi dire dei cittadini a loro che non riescono a pagare una determinata tassa Non riescono a pagare l'Enel, non riescono a pagare l'Imo, l'Igis o quant'altro Vero? Tantissimi, presumo Vero? Bene, perfetto No, perché tante volte parliamo di ciopero fiscale e ci guardano così Il concetto è questo Se questi cittadini che si recano in comune a dichiarare che non ce la fanno a pagare le imposte Lo dichiarassero Secondo voi il peso specifico Cioè il segnale che arriverebbe a Roma sarebbe diverso? Cioè se lo dicessero Se lo dicessero apertamente Tipo noi del Comitato per l'equità fiscale Diciamo attraverso un modulo Quando si fa l'adesione Dichiariamo che per il momento Non siamo in grado di affrontare la tassazione odierna Perché siamo costretti come imprenditori Come cittadini O quello che vogliamo Siamo costretti a scegliere se pagare le tasse O mandare avanti l'azienda E conseguentemente cercare di vivere in modo decente Far vivere la nostra famiglia a un livello che sia decente Qui al giovedì se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori Lo sappiamo benissimo Quindi per evitare Di incrementare questa povertà che ormai è diffusa Bisognerebbe cercare di dare dei segnali Molto forti a Roma E secondo me l'unico segnale civile Che arriverebbe come un pugno nello stomaco ai signori romani Sarebbe che i cittadini Tutti quelli che sono in difficoltà Quando era di pagare l'imposta e quant'altro Dicessero Io non pago perché non riesco a pagarti Perché devo prima cosa Cercare di far vivere in modo decente la mia famiglia E se tu Stato non comprendi questo Vuol dire che abbiamo un grosso problema Cioè lo Stato si è staccato anni luce Da quello che è la realtà quotidiana L'economia locale L'economia reale Quella che viviamo tutti i giorni Tutti quanti noi che siamo esseri umani Che ancora siamo a livello terra Quei signori là non sono più al nostro livello Quindi bisogna dargli dei segnali forti Con questo intento qua È nato il Comitato per l'equità fiscale A salvaguardia del cittadino Del cittadino comune E dell'imprenditore Quelli che sono vessati da Equitalia E chi più ne ha più ne metta Perché se vorremmo ne parleremmo a sé E poi vorrei fare una piccola scommessa Credo che sicuramente il 90% degli italiani A casa la sua bella cartellina di Equitalia Per una multa o qualcosa che ha evitato di pagare Nel tempo Infatti avrete sicuramente il deposito Delle cartelle di Equitalia in comune Corretto Giusto È vero? Sì o no? Sì E ben si guardano Deve venirle a prendere Perché chiaramente I postini ormai portano bollette dell'Enel Che sono una cosa vergognosa soltanto a vederle Da 23 euro io ho pagato il mese scorso 124 euro Una roba Terrificante E da lì arriviamo Postini portano bollette Equitalia e cattive notizie Punto Lo Stato ci spreme Da imprenditori Da cittadini comuni Da lavoratori Per chi è fortunato di lavorare E chi purtroppo non lavora Proprio la vede nera A sé Perché? Quindi noi del Comitato Vorremmo cercare di far capire Che l'unica arma dei cittadini Lecita Perché è consentita Dall'articolo 53 La Costituzione Dall'articolo 54 Che dice Chi non è Nella possibilità Non è punibile Nel caso che non pagasse le tasse Cercare di far capire i cittadini Che questa è un'arma Lecita È un'arma che È sicuramente Democratica Non ti porta in piazza A sfasciare niente Ed è sicuramente un segnale Che arriverebbe molto Molto forte In modo importante Allora Vediamo C'è un sms Che Chiede a Mirella Di dare un'opinione Sul fatto che Sì Devo Bittonci Ha proposto Per le cucine popolari A suo tempo Di schedare Così è stato detto Coloro che vanno a mangiare Per capire Chi sono quelli che vanno lì Se ne hanno diritto O meno Da suorlia E questa è stata Subito Una polemica E la polemica Continua Con il suo Avversario Alle prossime elezioni Che è Giordani Il candidato Al Partito Democratico E delle liste civiche Di centro Contro cui si batterà L'ex sindaco Di Padova Della Della Lega Massimo Bittonci Vediamo Questo scontro A distanza Sulle cucine popolari Tra questi due uomini Politici Mezzogiorno di fuoco Ma niente pistole In questo caso Il duello È tutto verbale E riguarda I pasti caldi Delle cucine popolari La disfida Si è consumata A distanza Tra Massimo Bittonci E Sergio Giordani È la prima Di questa campagna elettorale Giordani Non ha fatto in tempo A salutare Suorlia E ringraziarla Per il prezioso lavoro Che svolge Con la sua mensa Che subito L'ex primo cittadino Ha risposto con un video Sui social Ricordando I problemi legati Alla sicurezza Sarebbe ora Di introdurre Questo nuovo Meccanismo Di controllo Magari individuando Con un registro Quindi indicando Le persone Che poi entrano E vanno A utilizzare Questo importantissimo Servizio Per la città Bittonci poi Propone lo spostamento Delle cucine popolari E precisa Dovrà essere Un percorso Condiviso con il Vescovo Spero che nei prossimi anni Si possa arrivare Anche una diversa collocazione Magari Concordando Con la curia Bisogna capire Poi cosa ne pensa Il Vescovo Cipolla Che in passato Non è esitato A schierarsi Contro l'ex sindaco Il numero uno Della chiesa Padovana Quando Bittonci Ordinò controlli Su tutti i frequentatori Delle cucine popolari Si recò simbolicamente A mangiare Tra i poveri Dicevamo del duello A Bittonci Ha replicato Sergio Giordani Con un comunicato In cui scrive Abbiamo ascoltato Per due anni Solo slogan Che tentano Di coprire Un fallimento La città Oggi è meno sicura Nei quartieri Come in centro Giordani prosegue Fare sicurezza Non può essere Colpire e ostacolare Il lavoro Di chi agisce nel bene Chi opera nel sociale È un prezioso alleato Verso questo obiettivo Comune a tutti Chiude il candidato Sindaco di centrosinistra Servizio di Lorenzo Monegato Anche il sindaco Brugnaro Era stato criticato Dal patriarca Moraglia Quando propose Di spostare le mense In un villaggio Della povertà Per liberare i quartieri Da Diciamo Frequentazioni A volte anche Non Così Non legali Nel senso che Poi lì attorno Bivaccano Tanti spacciatori La gente Mirella Tu cosa ne pensi Soprattutto Diceva l'ascoltatore Del controllo Di chi va a mangiare Alla mensa Dice Dice Bitonci Insomma Vanno anche quelli Che non ci dovrebbero andare E quindi È una situazione Da controllare Allora Mettiamo subito I puntini Che Suolia Sta facendo Un lavoro Come suora Perché Dobbiamo anche guardare Da questo lato Incomeabile Che poi ci voglia Una certa sicurezza E delle regole In questo momento Difficilissimo Non c'è dubbio Non c'è dubbio Perché Purtroppo Viviamo in un momento Particolare Dove può succedere Di tutto E dove tu devi capire Anche chi accogli Questo avviene anche Nel nostro banco solidale Perché questo? Perché è un problema Purtroppo Di sicurezza Non sai Chi hai Con chi Hai a che fare Vediamo i suicidi Vediamo gli omicidi Vediamo di tutto Cose che una volta Non succedevano Perché bisogna anche dirle Queste cose qua Perciò la gente È anche normale Che abbia paura Perciò Se ci sono anche Delle regole Da mettere Delle regole E se questo Serve a fare Più chiarezza E dare più sicurezza Ai cittadini Questo deve avvenire Perché no? Perché no? Perché non si può Fin di conti Le mese Sono gestite da volontari Però il mangiare Che danno Viene dai cittadini E i cittadini Cosa chiedono? Sicurezza E sapere Chi hanno in casa Questo chiede il cittadino Allora io penso Che benvenga Se vengono fatte Delle regole Che danno più sicurezza Cioè non è che Si deve togliere Il mangiare O la mensa Però Delle regole A mio avviso Vanno inserite Purtroppo Ma vanno inserite Anche in base Alla tua esperienza Quello che succede Al banco alimentare Allora Maria Luna Raccontami Raccontaci Quando vai alla mensa Della Caritas No? Come ti sembra Diciamo Ti danno un primo Tu cosa preferisci? Ti danno anche il dolce? Cosa fai? Più la carne preferisco Ti danno la carne Un primo e un secondo Quindi tu non sei vegana No Non sei vegana Neanche vegetariana No Cavalli danno qualche volta Anche cavalli Senti E cosa c'è? Praticamente vi mettete In fila E vi danno In un bacone Un basso Lo prendi tu Lo prendi tu Vai su Su conoscoreboli Ci sono tre primi E chiedi quello che vuoi Tre secondi Carne C'è qualche volta Lasagne No? Sì Lasagne Gnocchi Qualche volta Senti Maria Si mangia benissimo Senti Maria Luna Ecco tu confermi Si 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 mangia bene Ecco Voi quando andate lì Siete a tavola Con altre persone Esattamente Ma c'è stata una volta Che hanno fatto casini Con chi parlate Che storie sentite In genere con chi parlate Stiamo sempre storie Anche di extramunitari Che si lamentano Poi della cena Ci sono anche tante Non voglio fare razzista Perché in realtà Avevano molti questioni Non so Poi la sindacchessa Di che corrente sia politica Poi anche voi No no ma qua si può dire Quello che si vuole No no Veramente Anche tante gente Anche tanti colori Che dicono Si mangio quello Poi succede Che quando tanti Nella messa C'è scritto Prendete quello che mangiate Non buttate via Perché alla gente costa Questi di Triglio di colore Chiamiamo musulmani Chiamiamoli extramunitari Rom Vabbè Non usate parole Per non voler essere volgare Vabbè Però vabbè I rumeni E anche Quei colori Ma anche Poi buttano In cestina ancora Ma come ti metto Entrare nella messa Dico io E non mangiare tutto Cioè mangiano una parte E buttano via Perché non mi comodo Poi dicono Non voglio mangiare Non mi piace E ci sono Siamo mangiando Poi una volta Ci sono mangiando Adosso Perché si deve entrare In ordine Cioè Prima entrano Quelli Via Pasubio Che è un Non so Adesso un dormitorio Di Treviso Poi ti dice Se tu arrivi per primo Devi arrivare anche Le tre e mezza Le tre messe Via le cinque Ti metto male addosso Insomma Sono storie È una realtà Che sarebbe bene Un discorso di padro Da sollia Comunque la sollia ha ragione Perché una volta Mi muoio Sono andata a padro La mettiamo Per intanto Scusate Non so se Intentava discorso Se posso Parlare anche Mirella Chiedo anche a te Chiedo anche al direttore Chiedo a tutti voi Scusate padro Solia è vero Però attenti Che a solia Per mangiare Minimo c'è due cinquanta Per mangiare Da solia In quel Cioè due euro e cinquanta Per mangiare Due euro e cinquanta Per solo primo Se puoi mangiare completo Va di cinque euro Io mi domando Come fai tu Dico io Noi vabbè Dopo sono diffrati Anche a Padova Su un'altra parte Su una santa rita Però solia Vuole due euro e cinquanta Per mangiare solo un primo Cioè invece la Caritas La Caritas Non quattro Mi do la Caritas La Caritas è gratuita Non paghi Anche a Mestre Scusate Mestre Anche a Caritas Ma si mangia male A Mestre Per tutti i rumeni Vuole entrare per primi Rispetto ai italiani Cioè le persone Che distribuiscono Il cibo Che persone sono Corialissimi Ti salutano Dicono vuoi questo Se non vuoi Aspettano No Su questo sono Corialismi E anche se potete In casa la famiglia Su Corialismi Anche selezioniamo Ancora Eterreta La Mirella Lei è direttore Anche Monti 5 Stelle La sindacchese Ringraziamo tutti Grazie a tutti quanti Anche i telespettatori Anche i telespettatori Grazie a tutti Brava 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 Maria Luna Grazie Poi sentiamo anche In questi luoghi Ma credo che si farebbe bene In modo probabilmente Di Tuffa e Banco Solidale Io vorrei venire Senza che nessuno sappia Nome e cognome Niente Senza cravate Senza video Niente In incognito A dare una mano Lo facevo prima Ne sono fiero Lo tornerò a fare dopo Quando ho finito Di fare il parlamentare E voglio darti una mano Tra l'altro Mi sembra promesso Anche un Natale Di andare a dare una mano A Caritas E stare a casa Sono con i miei parenti Che ogni tanto è bello Ogni tanto sono così tanti Ti fanno una testa quadrata Però E dare una mano A servire appunto la Caritas Penso che sarebbe bellissimo D'altra parte Posso aggiungere su Venezia qualcosa? Come? Venezia è una bellissima città Abbiamo Tornando appunto A un servizio fatto prima Vi sono 30 milioni Di turisti all'anno A parte che sono concorde Che si possa mettere Un 0,5 Un euro D'accordo In magnataria Da poter raccogliere dei fondi Per dare una mano A questa bellissima città Anche perché nei musei Si paga per l'entrata Si paga per l'entrata E questo museo ce l'ha aperto Tra l'altro lo è Roma Roma anche con il Zoni Pietoso Ma insomma Italia è piena Di questi centri bellissimi Riuscire a mettere Secondo me si può anche Tassare anche 5 euro Ma probabilmente Per alcune persone Insomma stranieri Si può anche pensare Anche un qualcosina in più Un dono anche da parte loro Però 30 milioni Sono una quantità enorme Se è fondamentale Poter programmare Il turismo a Venezia Che programmare Il turismo a Venezia Non vuol dire Limitarlo e basta Vuol dire far sì Che queste persone possono Che si può creare un hub In cui il turista arriva Per poter venire a Venezia Nel corso dell'anno E dopodiché Traspirare in questo Grande hub turistico Persone sul territorio Lì si va a creare Anche lavoro Che permette alle persone Di poter vivere In maniera diversa Il trasferimento La vendita Così si può dire Promozionale Del prodotto Veneto Va fatta Con una visione Di insieme del Veneto intero Io voglio che il turista Che visita Venezia Non faccia semplicemente Roma Firenze Venezia E basta Io li voglio portare A vedere Le Donomiti Bellunesi Voglio portare A vedere Castelfranco Voglio portare A vedere Treviso Sicuramente Ma coneliano Voglio portare A vedere Bassano Cioè i centri Quelli più piccoli Anche Che hanno una qualità Una bellezza Che è storica Per poter fare questo Ci vuole programmazione E questa viene Soltanto anche E quella sì Secondo me anche Col fatto che Vengano messi insieme I sindaci Parlamentari Il territorio intero In un'unica Grande visione D'insieme Ne parlo Con tutti i miei colleghi Di qualsiasi Colore politico Bisogna Su certe cose Fare squadra Se rimaniamo Sempre individualista Classico Veneto Alla fine Non vi è fora Nulla Perché alla fine Capita i casi Veneto Banca Polaro e Vicenza Non si fa squadra Si vige Soltanto Nel grande scontro Così mediatico Giornali Televisione E non si arriva a nulla Ecco perché Partendo dal Il presupposto Di partire con Venezia Programmando il turismo In una visione D'insieme Arriviamo forse A vederla in maniera diversa Magari arriviamo anche A essere un tutt'uno Su un altro Grande tema Che è l'autonomia Veneta E quel referendum Che verrà avanti Poi se magari Ho ancora un piccolo spazio Ce la raccontiamo Un po' di più Intanto su Venezia Incomberà Questo che potrebbe essere Un monumento Alla corruzione Il Mose Lì Che qualcuno vorrebbe Dopo aver speso 5 miliardi Abbandonare lì Come simbolo Evidentemente O farne un albergo Facciamone un altro albergo Sulla laguna Magari Speriamo che funzioni Invece Visto che hanno concluso Sono arrivati a oltre Tre quarti I lavori Lo finiscano Vediamo Vediamo se vengono su Sti paratoio Seppure vengono su E poi collassano Come qualcuno dice Proviamoci almeno Allora Vediamo La Vediamo la Fine Del Servizio Sulla casa famiglia Di cui parlava Tirella E questa è la parte In cui c'è anche La consegna Dell'assegno Vediamo Dei soldi Ecco Questa è una stanza Matrimoniale Anche questa Oggi siamo In overbooking Quindi abbiamo Aggiunto Due letti Però questa è ottima Anche per le famiglie Tante volte Che ha un bambino Due bambini Insomma Gradisce Questa struttura Un'altra cosa Interessante Della nostra casa È che cerchiamo Di essere Il meno impattanti Possibile Dal punto di vista Climatico Abbiamo il più grosso Impianto fotovoltaico Della città di Treviso Un impianto solare Termico Insomma Cerchiamo di lavorare Sulle fonti rinnovabili Abbiamo cambiato Tutti i serramenti Per avere una Trasmittanza Il più ridotta Possibile Insomma Tutto un lavoro Anche di rispetto Dell'ambiente Su quale crediamo Insomma Laddove possiamo Qui abbiamo Una sala da 40 posti Più altre Salette per riunioni Più piccole Dove stanno facendo I lavori di gruppo I giovani In formazione Per il servizio civile Di Acli Triveneto Una bellissima realtà Insomma Che siamo onorati Di avere qui con noi Oggi Proseguendo Da questa parte Abbiamo Questa sala Polivalente Che è utilizzata Per la psicomotricità Per i bambini È utilizzata Per il massaggio infantile Perché Aiutiamo le mamme A instaurare Un rapporto Con i loro figli Anche col contatto fisico Qui vengono fatti Incontri per i nonni Vengono fatte Diverse attività Per i bambini Più piccoli Insomma Uno spazio Polivalente Insomma Molto molto interessante Che c'è Molto richiesto Quindi È una buona struttura Col videoproiettore Tutto Comodo Tutto cablato Col wireless Questa è la cappellina Dove appunto Facciamo le celebrazioni In momenti di preghiera È molto semplice Ma accogliente Quindi quando siamo in pochini Siamo una settantina 50-70 persone Ci stiamo Stiamo salendo All'ultimo piano Dove c'è la Sala convegni Facciamo qui Ci stanno 150 persone E qui facciamo I momenti Insomma Di assemblea Un po' più grossi 100 300 400 E 500 Signora A chi in testo L'ha ricevuta? Associazione Veneti Schiacciati Dalla crisi Grazie Allora Cari telespettatori Come vedete Siete la nostra Grande famiglia Perché con i vostri soldi Riesco a pagare Questo alloggio A questi due sfortunati Ragazzi Chiamiamoli così Sono due ragazzini Io saluto il direttore Grazie Complimenti ancora Allora ci vediamo Il prossimo giovedì A Veneti Schiacciati Dalla crisi Grazie Grazie Buona giornata Allora Bene Bene Vanno Tanti sms Intanto Leggiamo Spesso Vanno caricati A forza E mandati via Non devono restare Un minuto di più Stanno violando Un paese straniero Ma i fantocci Del governo Fingono di parlare Di espulsione Falsi E ipocriti Catto comunisti Venezia libere Va bene Davide Meneghini Allora Parliamo di Padova Amministrative In vista C'è questo Duello Tra i due Principali Contendenti Poi vedremo Se ci saranno Degli outsider Insomma ci sono altri Candidati Sarà una bella Lotta Però insomma Bitonci Ha tutte le Intenzioni Di tornare in Sella Lei è ottimista Come la vede Questa attenzione Sì perché Diciamo che Credo che L'ex sindaco Bitonci Diciamo che Interpreta un po' Quello che la comunità Diciamo chiede Ecco appunto anche Per quanto riguarda Le mese popolari Di suorlia La cittadinanza Insomma in sé Chi abita lì vicino Vedeva a un certo punto Diciamo una specie Di degrado Comunque Composto Da malviventi E quindi Ha detto Perché non facciamo Una sorta di filtaggio E per questo motivo Insomma Diciamo che Il sindaco L'ex sindaco Bitonci Appunto lui Cerca al meglio Di Posso dire Di assumere Insomma le responsabilità Che la città chiede Per cui Ci sono questi problemi Che magari Appunto Andando al bar Comunque Frequentando un po' La città Insomma si sentono Anch'io personalmente Sono questioni Che a livello Nel territorio Si percepisce Ecco quindi Penso che Sicuramente Il vantaggio Di questi anni Di lavoro C'è insomma Che comunque La presenza nel territorio Che poi È quella Che la classe politica Deve mantenere Con gli impegni Permettendo E quello Insomma poi Il vantaggio Che c'è Tra la distanza Ecco Tra la centrosinistra E l'attuale L'ex amministrazione Si parla sempre Spesso della congiura No La notte Del notaio Che ha fatto cadere Il sindaco Bitonci Con il tradimento Di alcuni esponenti Della maggioranza Due tra l'altro Sono stati espulsi Da Forza Italia Lei trova Qualche attenuante In questi Congiurati O è dell'idea Che andavano Appunto Esposti Come è stato fatto Al pubblico L'unibrio Insomma No Questo è stato La reazione Ovviamente Del sindaco È stata durissima E si è sentito Tradito Dai suoi stessi Alleati Allora io dico Sempre Cioè noi Noi ha un cervello Quindi insomma Se c'è qualcosa Che non va In un'amministrazione È giusto magari Farlo presente È giusto insomma Fare delle battaglie Tra virgolette Interne Scopo di bene Per la comunità Però andare a tradire Un sindaco Andare comunque A tradire un'amministrazione E comunque A bloccare la città Sicuramente è sbagliato Cioè nel senso Poi soprattutto C'è mancato Il rispetto Verso i cittadini Siccome è Quella è stata La nota più grave Che è stata registrata E quello Anche rispetto Un po' Di tutte le istituzioni Tutto quello Che insomma C'è tutte le spese Che ci sono Anche a livello politico Insomma comunque Fare una campagna elettorale Fare un'elezione Ci sono I soldi pubblici Che vengono spesi Investiti Quindi fare queste Diciamo operazioni Che sono ovviamente Molto pesanti Molto costose Ma anche proprio Sono assolutamente Delle mancanze di rispetto Un po' verso tutti Quindi Assolutamente Sono da attaccare C'è stato uno scontro Tra Settimo Gottardo E l'ex presidente Del consiglio Comunale Federica Pietro Grande Durissimo In una delle puntate Dove appunto Abbiamo avuto grandi ascolti Quando c'è la rissa Ci sono gli ascolti Poliziotti e carabinieri Saranno anche bravi Ma non hanno poteri Se prendono i delinquenti Il giorno sono liberi Grazie a giudici E magistrati Allora Mirella Vediamo ancora La situazione Dell'economia E del lavoro Perché qui Si parla ogni tanto Ma si si muove qualcosa Però qui le aziende Che noi andiamo a vedere Con le nostre telecamere Non sono certo In buone acque Vediamo Vediamo La protesta Dei lavoratori Dall'Anselmi Che sono andati Da Padova A Venezia Proprio a protestare Anche sotto la region È sparcata a Venezia Oggi la protesta Dei lavoratori Della Fonderia Anselmi L'azienda Di Campo San Piero Dichiarata fallita Dal tribunale Di Padova Il 24 gennaio scorso Arrivano in Laguna Con una buona notizia Una nuova proposta Di acquisto Questa mattina Oltre alla proposta Della ZEN Che era arrivata Nelle settimane scorse È arrivata anche La proposta Della Riotti Di Brescia Questo ci fa dire Insomma Che la Fonderia Interessa E assolutamente Alle condizioni Per ripartire Adesso bisogna Fare in fretta Bisogna che La burocrazia Il tribunale Le varie procedure Che sono attorno La vicenda Della Anselmi Facciano tutto Il necessario Per cui i forni Possano riaprire Il prima possibile E soprattutto Ci sono i soldi Per pagare Gli stipendi Dei lavoratori Perché è da dicembre Che non viene Non percepiscono soldi Lavoratori che continuano A mantenere Il presidio in azienda E che credono Che la Fonderia Possa riaprire presto Il 19 dicembre La fabbrica è ferma E noi siamo là Giorno e notte A controllare Che non sparisca Quello che c'è dentro La picchettiamo Praticamente Perché non muoia Perché non muoia Teniamo gli impianti In sicurezza In funzione Gli impianti Di depurazione Sono a posto Non siamo pagati E siamo là Che vigiliamo Con la speranza Di ripartire Inizio di Paola Da questo uomo Cosa ha detto E cosa stanno vivendo Cioè La voglia di combattere Per cercare Di tenere in piedi Questa fabbrica Di sperare Che il lavoro Non cesse Perché il lavoro Quello che interessa A queste persone Perché hanno famiglie Hanno dei problemi enormi Sono veramente disperati Non sanno più cosa fare Perché dicono Ma cosa sta succedendo Perché non si riesce Neanche a capire Se la fabbrica Se non picchiettano Riuscirà a tenere Le macchine Tutti i macchinari Tutte le cose all'interno Pensate Ma vi rendete conto Cosa sta succedendo Perché dalla sera Alla mattina Può succedere Di tutto e di più E questi sono Veramente terrorizzati Abbiamo visto I vigili del fuoco Cosa hanno detto Stipendi da fame Gente che rischia la vita Sono preparatissimi Il limite di età Che non c'è 50 anni 60 anni Cioè Ma io non so La politica Ma tutta da un'altra parte Cioè loro Guardano altre cose Quello che è veramente Il problema Come diceva giustamente Il sindaco Cioè il problema adesso È il cittadino È il lavoro È dare la sicurezza A questi ragazzi Che vanno a scuola Che quando orientano Il terrore Non trovare più i genitori Perché questo succede Non avete sentito tutto Dalle case famiglie Ma hanno padri Veramente Che si sono divisi Dalle loro mogli Proprio per il problema Di non avere più il lavoro Di non avere più soldi Sono distrutte le famiglie Stanno distruggendo le famiglie Perché oltre a perdere il lavoro Perdono la famiglia E per certi padri È una disperazione enorme E per certe madri Ma soprattutto Per quegli figli Cioè ma pensiamo A questi bambini A questi ragazzi E poi diciamo Se si suicidano Ma che mondo Vedono davanti Cioè stiamo parlando Di menti fragilissime Cosa facciamo In che maniera Li aiutiamo Andiamo dei sindaci Giustamente ha detto Non possiamo aiutarli Non abbiamo risorse Però poi Le grandi opere Si parla di stadi Si parla di golf Ah si sente 97 milioni Alla Prima della campagna elettorale Alle periferie Ma le periferie Non le vedono neanche Anche stamattina Cittadini che dicono Io non ho neanche Un lampione Dove abito E si pago le tasse Ed è anni Che chiedo un lampione Che chiedo degli allacciamenti Cioè non fanno niente Perché Cioè Io non so Ma Non gliene frega niente di noi Loro devono arrivare Al loro obiettivo Che è quello di Avere una poltrona importante Che gli dà La sicurezza Per tutta la loro esistenza A loro e a tutti i loro familiari Non dico tutti Però diciamo 99,9,9,9 Perciò non ho detto tutti Ho detto 99,9,9,9 Allora cosa succede Il cittadino è anche stanco Perché anche stamattina si parlava Allora Vai al referendum Allora ti obbligano Perché diventa un obbligo A dire sì o no Su cosa Su che problemi abbiamo votato Abbiamo votato forse Problemi grandi Importanti Che riguardano il cittadino Non mi sembra Poi con delle frasi E delle parole Che secondo me Tanti anziani Non neanche capito Cosa dicevano Il problema del lavoro Abbiamo votato un referendum Per il lavoro No Abbiamo votato un referendum Per dare la casa Agli italiani Che hanno perso il lavoro No Abbiamo milioni Abbiamo milioni Di appartamenti sfitti Vuoti Perché non li consegnano Perché non vengono consegnati Sono là Vuoti In degrado E non vengono consegnati Abbiamo la gente Che dorme sui battelli Che dorme sulle strade Questi qua Si abbracciavano sotto i ponti Però non diamo niente Strutture non ce ne sono Perché io ho bisogno anche di strutture Ho bisogno di asili Ho bisogno di case Non ce ne sono Ma ce ne sono tantissime di sfitte Ma chi se ne frega Ma dammele Sono andata la scorsa settimana Da questa famiglia Che la casa sta cadendo Ma chi va a vedere questa famiglia Ma allora La salute del cittadino Che il sindaco è responsabile Cioè si rendono conto Di cosa dicono Di cosa fanno Ma non contiamo niente Il problema è che Non contiamo niente E là il grosso problema I sindaci vanno a Roma E vengono a casa senza niente Addirittura tra di loro Poi non vanno neanche tanto d'accordo Così pure gli onorevoli senatori E noi stiamo qua a guardare Ma vai a votare Ma cosa voto? Ma chi voto? Ma chi voto? Che poi fate quello che volete? E infatti di Sarò Parlava proprio di una sollevazione In qualche modo Ma diciamo non è una sollevazione Diciamo che Creare un'unità di intenti I cittadini sono tutti scontenti Non c'è niente da fare Qui abbiamo un parlamentare Presumo che lo sappia Benissimo com'è la situazione I cittadini sono tutti scontenti Per tutta una serie di svariati motivi Da quello che ha parlato la Mirella finora A quello che abbiamo sentito l'altro giorno Che ha menzionato poco fa La Mirella Dove ci dicono 97 milioni Per il torneo di golf Challenger So io cos'è Ma è così Che si fa ripartire un paese? No perché se non lo sanno Allora parlino con la gente Che sanno fare le cose Perché io sono un imprenditore Non sono politico Ma se voglio Non faccio pure anche politica Non sono mica proprio l'ultimo arrivato Allora Mettiamo le cose in chiaro La politica Deve fare una profonda analisi Della situazione italiana Non si fa ripartire il paese Con 97 milioni da spendere Per un torneo di golf Che è fine a se stesso Punto e basta E non abbiamo un ritorno Quei 97 milioni di euro Si possono investire Facendo finanziamenti Sull'onore A quante aziende? 200 mila aziende Per 50 mila euro Si possono fare Dei versamenti Una tantum Sulle pensioni Le minime I 100-200 euro Al mese in più Ogni tanto Che la gente tiri il fiato Quelli sono soldi Che vanno immediatamente Nell'economia reale E cominciano a girare Se poi la politica Non è capace Di comprendere queste cose qua Devono cambiare Mestiere Punto Basta Non c'è altro da fare Quindi Noi Del comitato Per l'equità fiscale Proponiamo Un'unità di intenti Di tutti i cittadini Dal pensionato Al dipendente Al disoccupato Che già di problemi Per pagare Ma lasciamo perdere Al piccolo imprenditore Alla media industria Lasciamo perdere La grande industria Confindustria E cose varie Specialmente Se guardiamo Lo specchio Della situazione E mi meraviglio Che la politica Non abbia fatto Una riflessione L'hanno schivata Tutti Abbiamo visto Che i maggiori Creditori Di MPS Sono la crema Dell'imprenditoria italiana Milioni E milioni E milioni Che MPS Dovrebbe riavere Che molto probabilmente Non riavrà mai Cosa fa lo Stato? Ci butta là 20 milioni 20 milioni Ma il problema Qual è? Se noi mettiamo in evidenza Il fatto Che la crema Dell'imprenditoria italiana I grandi imprenditori Le grandi aziende Sono Quelli Che solo con MPS Hanno un tot Di debiti del genere E quelli Non lavorano Certamente Con una banca solo Se tanto mi da tanto Quant'è il debito Di queste grosse aziende Che sono così tanto Portate Rinomate Sovvenzionate E quant'altro Una cosa mostruosa Allora I piccoli Come sono messi Tutti quanti Con la corda al collo Lo siamo E glielo posso dire Tranquillamente Perché lei sa benissimo Che io sono un imprenditore E so benissimo I miei colleghi Come sono messi Col DURC Come la mettiamo Visto che abbiamo qui Un parlamentare Che sta ammazzando Le aziende Le sta falcidiando Le piccole aziende Il DURC Perché abbia un senso Deve essere fatto Per le aziende Superiori ai 10 dipendenti Che sono strutturate In modo diverso Sia a livello economico A livello di operai Lavoro E quant'altro Tanto per dire E poi se volete Vi faccio vedere La proposta di legge Che avevo fatto Soltanto che naturalmente Io non essendo nessuno Pum Chi te guarda Vabbè Comunque io sono uno Che lavora Le cose le so Vogliamo far capire A Roma Che la gente È stanca Visto che non ci date retta Che facciamo Vi togliamo la vinfa La linfa vitale Vi togliamo Quello che ci succhiate Ogni giorno La linfa vitale Cioè i soldini Che Roma Ci porta via Perché ci porta via Perché io lavoro Al 70% Io tutti a Roma Praticamente Ci portate via Ci porti Non lei Diciamo Il sistema In generale Ci defrauda Del nostro lavoro Del nostro sudore Ok 70% Senza parlare Poi di tutte le tasse indirette Che sono Benzina Sigarette Perché ti alzi Perché ti alzi la mattina Ti lavi il viso E hai già pagato una tassa Fai leva Sull'acqua Fai questo Fai questo Ragazzi Calma Mettiamoci d'accordo Bisogna instaurare Un tavolo di trattativa Con Roma E i cittadini Per capire Qual è il problema E lo sapete benissimo La tassazione Se no Non paghiamo Più Chiarissimo Chiarissimo Allora prima di sentire Di nuovo Perché lo chiamate Sempre in causa D'Inca E' l'unico parlamentare D'altra parte Stasera Vediamo L'artore è un'altra azienda In gravi difficoltà Vediamo Una situazione Drammatica Perché Ormai Sembra confermata Questa Gravissima Perdita Di posti di lavoro Diciamo Un'azienda L'Artoni Che finanziariamente Non riusciva più A stare Sul mercato Ha tentato Una cessione Dell'impresa La società Fercam Acquisizione Che doveva essere In queste settimane E che invece All'ultimo momento Ha visto Diciamo Il ritiro Della proposta Economica E così Sfumato il progetto Di acquisizione Da parte di Fercam Sono centinaia I posti di lavoro A rischio nel Veneto Cento Solo a Padova In via Inghilterra I dipendenti E i collaboratori Dell'azienda Di trasporti Artoni Si sono organizzati In presidio Non si aspettavano Lo stop alla trattativa Una mazzata E davanti a loro Adesso c'è l'ombra Della disoccupazione Ormai Artoni Nel corso Dell'ultima settimana Ha movimentato Ben poco Nel corso di questa Assolutamente È nulla È praticamente Fermo I sindacati Sperano ancora Che Fercam Riapra il tavolo Della contrattazione Altrimenti Lo scenario Che si aprirebbe Sarebbe davvero Molto pesante Noi speriamo Un accordo Con Fercam Perché È l'unico A questo punto Che può dare Un minimo Di speranza A buona parte Di questi lavoratori Servizio di Monica Smiderle Allora Dincar Cosa ne pensa Diciamo Dello sfogo Di Sarò Ma che è comprensibile Cioè io Ti capisco Guardi io non ero Uno sfogo No 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 È una proposta È una proposta Ho capito Ho capito Ci manca Non direttamente a lei No ma ho capito Cioè io guarda Mi sento Tirato in causa Perché sono L'unico parlamentare Per cui Alla fine di quello Mi trovo C'è parli Anche se non sono Al governo Ne niente Va bene Ma sta così Va benissimo Ed è giusto Venuti i sfoghi Con me Perché io devo Comunque prendermi La tua tristezza La tua difficoltà Portarmela a casa Va bene Ragionarsi sopra Per come trovare Una soluzione Andare poi a Roma E tradurla Con altre Quasi mille persone In proposta Di legge Che posso dare una mano Le tasse In teoria Sono Sì Un peso Se fosse Tu le vedessi Poi trasformarsi In servizi locali In copertura Alle persone Cioè Se si trasformano Diciamo Nella Scomparsa Delle persone Come Mirella Che Diciamo Prendono il posto Diciamo Di chi dovrebbe dare Servizio Saresti felice Di pagarle Dico io Invece Invece in questo momento In tutto il paese Da nord a sud Ci si accorge Che si pagano Moltissime tasse E che servizi Non ci sono C'è un problema Anche Che mancano Insomma Le risorse Cittadini Per poter effettuare Quei consumi Che poi Danno dignità Anche al consumatore I consumi positivi Parlo io Insomma Non consumare Per consumare Basta In maniera tale Che vi sia Quel meccanismo Di giro economico Per cui alla fine Tutti quanti Ne risentano A pioggia Dall'altra parte Ti assicuro Che c'è un cambiamento Tecnologico Mondiale In questo momento Talmente grande Per cui si iniziano A avere quantità Di prodotti A bassissimi prezzi E da qui Deriva anche Una deflazione economica E provoca Una sorta Di veramente Grande restrizione Del portafoglio Degli ordini Delle aziende E lo vedi un po' ovunque E' una situazione Che non so dirti In quale maniera Si possa riequilibrare Noi abbiamo fatto Un'analisi Molto profonda Sul lavoro Abbiamo fatto uno studio Spendendo anche dei soldi Come gruppo parlamentare Del 5 Stelle Per definire Come sarà il lavoro Nel 2025 Siamo andati Alla conclusione Che avremo Un cambiamento Del lavoro Probabilmente Bisognerà pensare A lavorare Un po' meno Ma a lavorare tutti Ad esempio Avremo comunque La mancanza Di una copertura Economica Di reddito A molte persone Perché resteranno Fuori Da alcuni circuiti Del lavoro A queste persone Che siano italiane Perché parliamo Di cittadini Del nostro paese Va data una mano Per far sì Che abbiano Quelle so se Economiche Per riuscire A sorpassare I momenti In cui non c'è Un lavoro Vero e proprio Che abbiano Una formazione Per cui avremo Disoccupati Anche degli avvocati O anche altre persone Che devono trasformarsi Va bene E prendersi Dei nuovi lavori Per far questo Ci vuole un reddito Di cittadinanza Va bene Che sia una copertura Totale Per tutte le persone Che non hanno lavoro In modo tale Che abbiano Dei consumi E con i consumi Possono quindi poter Permettere anche Chi lavora Di poter Vedere consumati I prodotti Del loro lavoro Questo è un po' Una totalità Poi se vuoi Possiamo lamentarci Possiamo gridare I 420 La problematica Ma io rimango Che in maniera pragmatica Le cose vanno risolte E per risolverle Non basta semplicemente Urlare O venire qua E dirti Hai ragione tu Facciamogli vedere Bisogna se è un tavolo Va bene E poi Dopodiché ci vuole Che tutti pagano E poi sugli scontenti Guarda Anche chi è ricco E scontenti Non so perché È un periodo storico Dove tutti sono scontenti Ma se guardiamo Come eravamo una volta Beh insomma Guarda Le panze comunque sono piene Non va così male È che eravamo abituati meglio Va bene È che molto probabilmente Il mondo sta cambiando E anche l'Italia È ridotta Non va proprio così male No Guarda Io sono convinto Che Sono stati in silenzio Io ho visto La terra dei fuochi Va bene Ho visto alcune situazioni Del sud Italia Ragazzi Io vi assicuro Che il Veneto È ancora Una macchina da guerra Dal punto di vista economico Per l'amore di Dio Ma vi avrete ricordo Che c'è posti In Italia Che veramente C'è una sorpresa mostruosa Ma sì Ma sì Io non metto In discussione Che ci siano posti Che sono anche peggiori Io metto solo in discussione Che se il Veneto Era la macchina economica Adesso non possiamo dire Che il Veneto Era la macchina economica Nel momento in cui Non abbiamo neanche Il posto di lavoro E abbiamo le nostre persone Che non hanno qualcosa Da mangiare E' bello e giusto Dire facciamo i tavoli Ma a questi benedetti tavoli Incominciamo a far partecipare Le persone Incominciamo a far sentire I sindaci Perché ti dicevo prima Ma ancora Che la mia La mia grande domanda Che non riesco proprio a capire Ma dammi una risposta Ti prego Perché ci stiamo Dimenticando dei comuni Ma ce lo ricordiamo Solo quando dobbiamo Scaricare qualcosa Sui cittadini Ma che cavolo fanno I sindaci sul loro territorio Io ascolto i cittadini Bravo Complimenti che sei venuto da me Avrei voglia di andare avanti Avrei voglia di chiamarti Di dirti tutti i giorni Quello che abbiamo bisogno di dire Ma sì Ma al di là del telefono Perché capisco la tua disponibilità Ma le istituzioni Si stanno in questo frangente Tra l'economia Lavoro E i servizi sociali Sono allontanabili Ma io rispondo sempre a Mirella Da quando mi chiami Rispondo a tutti Io rispondo a tutti No ma è che le istituzioni Sono lontanissime E se lo percepiamo noi Se lo percepisco io Che sono rappresentate le istituzioni E che ho scelto di fare questo Per passione Ma perché ci credevo Che ancora oggi Si potesse dialogare Mediare Andare a parlare con le istituzioni Per trovare una soluzione Mi accorgo che dall'altra parte Non ho più nessuno Cioè io al mio cittadino Non so più cosa dire Una volta mi verrebbe da dire Anzi Mirella prima ha detto La politica sta andando Dalla parte opposta Ma quale? Ma mi dica almeno una parte Se io sapessi almeno Quali sono le direzioni Io farei la mia parte I cittadini Farebbero la loro Non proprio non la capiamo Non è chiara Non c'è proprio Neanche un senso Non c'è una compatibilità No Allora Sì Ma posso rispondere a questo messaggio Per cortesia Se io perdo le lezioni Se io perdo le lezioni Si va a lavorare Perché io ce l'ho un lavoro Di tutto di me Qual è il messaggio Lo schifo è anche Che chi per le lezioni Troverà senza dubbio Se perdo le lezioni Torno al mio lavoro Io un lavoro ce l'ho E basta No un attimo soltanto Scusate Siamo al limite E dobbiamo ancora dare Il banco solidale Della Mirelluccia Vediamo Non si ferma mai La solidarietà Dei telespettatori Di Rete Veneta Per i venditi Schiacciati dalla crisi Anche questa settimana In tanti Sono arrivati All'ex teatro A Sant'Artemio Per consegnare Un po' di tutto In particolare Il caffè Pacchetti che sono Un vero e proprio regalo Soprattutto per gli anziani Che sono venuti A ritirare la propria borsa Della spesa Tra le oltre 250 Che anche questa settimana Nei volontari hanno preparato E consegnato loro C'è sempre bisogno Di aiuti di questo genere Per un grande quantitativo Di caffè Chi l'ha portato? Eh, gente privata Però non vogliono Lasciare il nome E anche questo È un segno di rispetto Per chi è in difficoltà Perché la solidarietà Non fa rima con pubblicità Una solidarietà aperta a tutti Perché tutti possono vivere Un momento di difficoltà È una necessità In quanto Per far studiare A mio figlio E manco con la metà Della mia pensione Che non è sufficiente Per le spese che ci sono E ringrazio L'associazione Che mi permette Di avere una volta La settimana Un po' di alimenti Senza dover Ricorrere ai soldi Che mancano Poi c'è chi vuole A modo suo Ringraziare anche i volontari Guardate Anche abbiamo una sorpresa Queste sono due persone Che vengono al Banco Solidale Allora come mai Ci hai portato Questo pensiero Per i volontari? Beh Picazzo è stata un'idea sua È stata un'idea di Giuliano E poi Abbiamo pensato a loro Via della disponibilità Del loro tempo Quindi ci sembrava carina Questa cosa E l'abbiamo fatta Cosa ti sembra Di questo Banco Solidale? Beh Mi sembra una grande realtà E È per fortuna che c'è Nel senso Che da Disponibilità Da mangiare Da vestire A chi non ha E questo Mi sembra un grosso progetto Un grande progetto Anzi Meritate molto Molto di più Di quello che avete E questo era il Banco Solidale Maria Luna Allora Ti piacciono gli animali? Sì Tanto Eh Puoi vedere una bella storia Due cagnetti In qualche modo È una storia che Ricorda un po' la vostra Per qualche modo In qualche senso Vediamo Vediamo questo Servizio Vediamo Lui è Rudy Un bellissimo esemplare Di Pitbull Ospite del canile Di Piazzola sul Brenta Fino a pochi giorni fa Condivideva gli spazi Conscianti Di fatto la sua fidanzata Adottata Da una famiglia Della Val Brenta Conosciuto Un'adozione stupenda A Val Stagna Proprio in pieno centro Una famiglia Che andrà al verde Lì anche se le case Sono molte addossate È incredibile C'è un bel spazio verde Io le ho tentate tutte Per convincere A prendere che l'altro cane Però obiettivamente Ne avevano già due Da quando è rimasto solo Rudy si sta lasciando andare È spesso cupo Si isola E non vuole mangiare Sente la mancanza Della sua Shanti Con lei giocava Dormiva Mangiava Vivevano praticamente in simbiosi Gli è stata portata via L'anima gemella È cambiato da così a così A proposito della sensibilità Degli animali Si è lasciato andare Si vedeva Ma noi sapevamo Perché vivevano l'uno per l'altro In paese E non solo Grazie al tam tam Sui social È scattata la gara Di solidarietà E presto anche Rudy Dovrebbe trovare una famiglia Che almeno uno di due Andasse via Dopo era più facile Da via l'altro Grazie ripeto Agli appelli Nell'arco di qualche giorno E forse già sabato Rudy conoscerà Una bella nuova adozione Oltre Rudy In Canile Ci sono centinaia Di piccoli amici A quattro zampe Che aspettano il calore L'affetto di una nuova famiglia Tra le altre cose La Lega Nazionale Per la difesa del cane Ha lanciato la campagna Adotta un nonno Per chi prende un cane Con più di dieci anni d'età Un'azienda privata Garantisce la fornitura Di cibo e crocchette 160 animali Che aspetterebbero un padrone 160 che una volta Hanno cuccioli Quando noi diciamo Non fate nascere cani Questi erano cuccioli stupendi Come mai sono finiti In Canile Questi 160 animali Che sembrano chiederci Di uscire Abbiamo anche l'area Di sgambamento Cerchiamo di venire L'incontro Ma mancano delle cose Le due cose più importanti La libertà E l'affetto di un padrone Servizio di Lorenzo Monegato Quindi anche voi Siete in simbiosi Voi non vi separerete mai Vero? Per cui non rischiate Non rischiamo di fare Diciamo Di trovarsi nelle condizioni Del nostro amico Pitbull Che andremo a trovare Con gli altri cagnetti Allora Mirella Hai delle buste? Allora anche questa settimana Ci sono delle buste Allora questa viene Da Ghi Antifurti Che ha portato al Banco Solidale 200 euro Ringrazio questa azienda Perché oltre aversi fatto Tutto il pianto Di sicurezza Agli orti Come vedete Ci porta sempre Questa settimana Ha portato degli aranci Questa settimana Ha portato anche 200 euro Poi ci sono 50 euro Qui si sono arrivati A rete vendita Della signora Rubinetta Signora Rubinetta Signora Rubinetta Signora Rubinetta La nuova è carina E poi questi invece Sono arrivati All'expo di Bassano Questa è una tredicesima Basta scherzare E questo signora Con sua amore Sono venuti a portarmi Per signora Mirella Tuzzato E a chi ne ha bisogno Giuseppe E Giulia Che io ringrazio tantissimo Anzi il lettore Volevano che io la salutassi E Giuseppe e Giulia Hanno portato La tredicesima Di Giuseppe Per aiutare Le persone in difficoltà Grazie Perché sono 100 200 300 400 600 800 1000 euro Corre Voglio dire Grazie 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 La tredicesima Grazie Grazie Per i beni Schiacciati dalla crisi Grazie Grazie Veramente Sono delle persone Che forse hanno capito Più di altri Quanto bisogno C'è di aiutare Perché Purtroppo ci vogliono soldi Non c'è niente da fare Perché qua si parla Si parla Si parla Però io anche Da questa sera Devo iniziare Un'altra settimana Devo pagare Perché niente viene gratis Niente viene gratis E perciò È importante Che soprattutto Ripeto Maria Luna Abbia una struttura Che la protegga Perché secondo me È già stata Abbastanza Da sola Anche se Ha Con tutto rispetto Che ho di Ettore Però Maria Luna Andava tutelata Assolutamente E finché potrò Cercherò di darle Quello che posso Ma il meglio Perché faccia Un percorso Più sereno Perché così Non si poteva fare Brava Mirella Allora Grazie a tutti Dobbiamo chiudere Che siamo Siamo oltre Il nostro Limite 23.05 Riparto I nostri Telegiornali Domani sera Di nuovo Il dibattito Molto politico Domani Tra gli altri Ci sarà Anche il presidente Del consiglio regionale Del Veneto Roberto Ciambetti Grazie a tutti Buonanotte Arrivederci Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Ascotrade Liceo Gas Energia Dalle nostre mani